Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di Saints Row 4, secondo episodio Allora, iniziamo subito, mamma mia che figata sto logo, con l'acqua tutta fapposa Ok, siamo qui con Renegade, in versione, in versione tipo detective anni 40, 50, qualch'è Allora, cosa dobbiamo fare? Potenzialmente, potenzialmente di cosa? Oh figo, abilità Residenza, aumenta la lunghezza della barra della resistenza, ah no, avevo letto la residenza Salute, i pedini adesso lasciano dei bonus salute quando muoiono, la salute della giocatura aumenta del 25%, aumenta leggermente il valore dei bonus salute Oppure, danni, danni esplosivi, piccole armi, leggera riduzione dei danni seguiti da proiettili e laser Combattimento, violator, in Giappone, no E' l'evoluzione del dildo E' l'evoluzione del dildo L'evoluzione di pistola, no Veicoli, vediamo Abilità turbo Tutti i veicoli che guidano il turbo, prendi il maiusco per razionarlo No, no Bonus Abilità borseggio Urta furtivamente le persone per rubare i loro sordi Lol Denaro E questo? Aumenta il denaro? No, io direi che andiamo con il 25% in più di salute No, no, andiamo con i veicoli Abilità turbo Non è abbastanza denaro Quanto soldi ci vuole? Uuu, 2000 C'è qualcosa che posso fare? Non penso Infatti Non posso fare niente Vergogna Cioè, non è il tipo di Cioè, voglio dire Ok, che ho speso tutto per una macchina Però, non è che puoi Cioè, voglio dire Rap, rapimatic Che cazzo? Extra Sfide Incarichi completati No Impara le regole Aumentiamo il ritmo Questa è tipo la missione principale Ok Ok, grazie Quindi, quelle sono delle anomalie del codice Eh, infatti Sì, un attimo Che prendo la mia bellissima Macchinetta Pacemaker O Temptress Pacemaker mi viene quello là Con il neon Oh, giro, giro, giro Ok, grazie Eh, ci sono un paio di questi Vabbè, noi siamo le strade Non siamo mica dei vandali Siamo dei super vandali Mamma mia Che tenuta di strada Mamma mia Che guidatore provetto C'è Mamma mia Oh, shit Eh, mi dispiace Senti Senti Minchia Ok Vabbè, io mi avvicino A questo Vai, qua ce n'è uno Lo vedo Perché dovrei fare tutto questo cosino Lo vedo È lì Ci devo passare sopra Ok Eh Ah, devo prendervi tutti Ok, ok Uh, bella sta macchinetta Ok Ti faccio fare il gatto Che cazzo Ah La smettiamo Uh, guarda che quella Ok Ok Pesare che non siamo amici Perché non canta Bella canzone Dov'è sto cluster L'anomalia del codice Penso che sia nel parcheggio Me lo sento No Se me è qua dietro A qualche parte Ah, eccolo lì Eccolo lì Non l'avevo visto Mamma mia Mamma mia La proagine Ok Preso Guarda dove È l'ultimo Sì Settecento metri Incompleti Ok Mamma mia Eh appunto Ah, ho capito Come Come Matrix In cui L'operatore può Farti imparare cose al volo Ad esempio Ad esempio Quando Trimity impara A guidare Il L'elicottero Senza averlo mai usato Erope varie Quello 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 Ecco Ok Sai che è faiata Vivere tipo così Ma Cioè Da quello che ho capito Io qua Non posso morire Perché Perché Gli ho dato l'ordine Che non posso morire Quindi Eh Erope Ok Infatti Molto meglio Oh Ehm Penso che sia qua dentro No Dimmi che non posso abbattere sta roba Ah ecco Così va meglio Cluster Eccolo là Qualcosa Perché L'ho trovato L'ho trovato Bello che la gente Cioè Non gli frega niente Che qua Cioè Sta partendo Un cacchio di roba Va bene Ok Ehm Check your hub Incarichi Aumentiamo il ritmo Fatto Ehm Zobot Accedi al menu Poteri Ah Poteri No E' quello che penso io Ragazzi Diventiamo dei supereroi Sì Già me le immagino Sarà tipo Cos'è Oh Figo Proprio come Matrix Me lo sento già Il salto sarà tipo Prototype Guarda Ecco Stile prototype Ok Ok Trici Focusing On charging Your jump That should Get you higher Oh Mamma mia Che figata Salto sul muro Che figata Oddio A Bistia Wow Ok Ok Non possiamo stare in questo test world per sempre A saltare Vola 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 Ok Come faccio a prendere la supervelocità Con Shift Oddio Oddio Che figata assurda Basta Abbiamo questo gioco Best game 2013 proprio Beh magari non proprio best perchè so già che Assassin's Creed 4 mi piacerà una cifra Però Di quel tipo insomma Ok Firewalls Che cacchio Non ho capito Oro, argento o bronzo Colpisci le sfere d'urbo Che figata assurda Mamma mia No, 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 no Dove devo andare Mamma mia Che casino E' bellissimo Che bella sensazione Sfondo tutto Oh mamma mia Che bello Oh mamma mia Vai Mamma mia Che figata assurda Oh shit Voila Vola Mamma mia Che figata Vola, vola, vola Altro che prototype Questo si che è una figata Guarda qua che figata Mamma mia Completata oro Oro Cioè Boom, boom E boom No Che figata Oddio io amo questo gioco Oh mamma mia Oh anche il denaro mi piace E ora potrò usarlo sempre questa roba Cioè qua è cheat Non ci sono Te gli da direttamente il gioco Ora puoi salire lungo le superficie verticali con il salto sul muro O saltare più in alto gli edifici con il super salto caricato Eh, sì, ok Ora puoi correre più veloce dell'auto con il super sprint Nella somminazione sono disponibili di istanze più impegnative dell'attività fuoco e fiamma Guarda le posizioni sulla mappa Ah, ok Mamma mia Cioè, altro che, altro che superman Cioè, ora proviamo shift Ah, ok C'ho comunque una barra del Ooooooooo Ucceeeeeee Babababababababababababababababababababababababababababababab Oddio, mi amo Cioè, amo il gioco Ma amo anche me stesso Cioè, guarda Ho preso un cluster Da quei cluster dei dati Per accedere ai superpoteri moglieri Ah, hai capito Lì ne vedo un altro Ne voglio altri Io di superpoteri Oh, cos'è? No, non ti sei mica glicciato Oh, cazzo Ah, no, ok Vola, vola Oh, cos'è? Un altro cluster? Ah, quello è un cluster Vai, salta, salta Oh, oh Due cluster Oh, lì ne vedo un altro Mamma mia che badda Lì ne vedo un altro Ok, no, basta Solo per questo Io lo ripeto Tipo il miglior gioco Nel 2015 1-1 Quanti cacchio ce ne sono? Vola, vola Eh, non fare così però Vola così Cinque Ora ce n'era uno anche Uh, un firewall Vola Minchia, come cazzo? Aspetta, aspetta Oh, no No, iniziamo male Un po' più qua Un po' più qua Ok Eccolo qua il cluster Cos'è questo? Ah, ah Registrazioni Belli videogiochi Oh, c'è uno là Aspetta, appena mi viene in corsa Mamma mia Che figata Io amo questo gioco Io amo questo gioco Io amo questo gioco Posso fare dis Oddio Basta No Cioè, Superman Mi fa una pippa Per cos'è quella cosa blu Che vedo? Ah, la polizia Non guardare giù Lì c'era un altro Aspetta Prima ci prendiamo Tab Poteri Supersalto Uh Potenziamenti Con carica Raggiungo una maggiore altezza Aumenta rapidamente Autore velocità Mezzare Prendendo maiuscola Costo 10 Disponibili 8 Ah, allora Non è così Così migliorabile Come pensavo Pensavo fosse molto più facile Migliorare Danno ridotto Ah Ah, praticamente io non posso ancora Prendere niente È quello che mi stai dicendo? Sì, è quello che mi stai dicendo Devo prendere tanti altri Per fare qualcosa qua Incarichi Impala le regole Questo non l'avevo appena fatto Ah, scopi come danunciare gli alieni Istruzione simulata Truffa simulata Oh, bello Mi piace No, aspetta, aspetta Prima voglio raccogliere L'ultimo cluster Cos'è una chiesa satanica questa? Raccogli, 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 raccogli VOLA È da sopra quella Mamma mia Mamma mia Che figata Ok Vola un po' di più Vola un po' di più Vola Con quanto fiato in gola Questo è difficile da prendere Yes Tanto non è neanche danno la caduta Cos'è questo? Avvia fuoco e fiamme medio No, grazie Allora Ma allora Ma allora Ma allora Tanto sto vedendo che Mi sta piacendo il primo episodio C'ho qua davanti Le mail Mamma mia Lo state riempiendo di mi piace Della serie Mi piace Mi piace Iaiaiaia Ah Mi piace Mi piace quando piace anche a voi Ok, allora Iniziamo Ma io non ho più bisogno della macchina Che cacchia me la fa fare? Mamma mia E se io metterò Adesso una macchina? Non la dispo Boom Headshot Quando si scattano di nuovo Aspetta che si riempia Prima di scattare di nuovo Ah ok si deve Wow Aspetta devo usare una super arma Cambia bro No che cos'è che mi ha attaccato? Qu'è successo? Qualcuno Cos'è? Cos'è quella? Una tua aliena? Dov'è il nemico? Non c'è più un nemico Ok Ok scherzavo Allora iniziamo con le missioni dai Ehm Imparare le regole vai Scopri come danneggiano gli alieni Iniziamo Vediamo come si danneggiano Aham Ah Grazie Cioè che devo fare? Aspetta 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 Indietro Telefono Consegno il veicolo Prendiamo la Tempteress Mamma mia che bella sta macchina Senti senti il rombo del rumore Anche qui si è una tenuta di strada Niente Niente male E anche una resistenza Che vaffanculo Ok non posso battere sta roba Peccato Ok ok Siamo a 300 metri 200 Come ci salgo? Ah beh Scherzavo Un cluster Muori Headshot beach Headshot Headshot Ora sarà meglio non premere troppe volte shift Perché se ho già che poi è un casino Oh ma ciao Non ti avevo visto Se io facessi così E poi facessi Come si fa ad ammazzare? F Sì F U Grazie Dammi money Dammi money Ah come lo disattivo sto coso? E Disattivo Ah Tengo premuto Cioè stai tirando Eh in effetti Ok ora mi serve l'altro generatore Devo fare un bel saltino Lo sai? Che figata assurda Che figata assurda Disattiva i generatori uno di due Ok Cosa è che devo fare? Disattiva il controller Cioè devo andare là Cos'è questo? Soldi? No Mitra pesante Con un mitra alieno No Preferisco il mio mitra pesante Che poi comunque alieno sto mitra Cioè non sarà mica un mitra Umano Devo entrare là dentro Quello è uno scudo? Ah un cacchio di scudo quel coso Che cosa? Che cacchio sto sparando poi? Oh chi è chi è chi è chi è chi è? Chi è che spara? Ah siete sempre voi eh Ah sto sparando uno scudo mi sa Posso prendere lo scudo? Oh si Ora ho uno scudo Eh però ho ancora le mie armi Ah giusto posso usare più di un'arma Ah no Vabbè lo lasciamo lì Allora riprendi la mia arma super epica Ok Leggi attiva il cazzo di hotspot Ah che cacchio è Kenny il guerriero tatatatatatatatatatatatata figata assurda che cazzo è sta roba penso che questo sia dopo che cosa Cosa dovrei fare? C'è, com'è che lo dovrei assorbire? Oh, eccoti Non c'è nulla Come faccio ad assorbirlo? Ah, è stile Matrix Tutto Matrix qua D V, V D Ok, lo sto assorbendo Bravo, complimenti Forse i miei guardanelli hanno sotto... Scarica sbloccato Ehm... Uh, nuova stanza all'annestramento Artiglia Guzzi Cos'è? Wolverine Wow Wow F1 Seleziona Scarica Congelante No, no, sono finti Aha Ah, è tipo un'abilità speciale Che figata Che figata Posso colpire tipo tutti di colpo? Se li metto in fila Cosa? Oh, sì No Uno Due Ah, devo... Devo congelarli e sparare Io li stavo colpendo Ehm... Cos'è? Q Ok Ok Fatto Che figata anche con lo scudo Vediamo con lo scudo com'è Ma dura tanto sta roba Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque secondi Se avessi una granata Rilassati Contro UFO? What the fuck? No, figata assurda Ah, è quello là che ho visto prima Per terra Che cazzo sei? Oh L'ho vuoto Troppo Ehm... Ehm... Devo tipo collegherli addosso? O cosa? Ehm... Ehm... mi ha tirato un calcio nel palle però non mi ha fatto niente ah ma ho solo ah no ok c'ho anche il mio pompone ti colpisco ah morto ah in effetti finito? si finito caldo o freddo completata nice ok continuo ora puoi lanciare energia contro i mici usando la scarica uso il f1 per passare praticamente alla scarica perchè di base cos'ho? elemento scarica gelo eh ok usa il menu poteri ah ti posso fare anche fuoco allora allora proviamo allora f1 cos'è che fa? nuovo messaggio così tiro la roba però se accedo al menu poteri scarica elementi posso fare fuoco controllo mentale intorno a te per indurre i mici a combattere dalla tua parte figata premi due volte f1 questo invece premi due volte f1 ah ok ok ho capito questo quando hai capito a spoccarlo? mai probabilmente potenziamenti vediamo scarica aria aumentare l'aria d'effetto ecco questo sarebbe utile durata anche morti esplosive bersagli esplodono in frattu mi danno in gioco tutto ciò ah figo bertine quando muoio infettando i nemici i mici è una figata sta roba però mi servono un casino di cluster tipo 9 potenziamenti ninja dicendo assoluta quando usi riflessi ninja che casolai riflessi ninja? per tornare in piedi dopo ah ok ho capito questo sarebbe utile salto altezza ah ora ho 10 cluster usiamo il super salto? si facciamo questo ok continua indietro proviamolo subito ehm denaro? denaro cosa? denaro cosa? figato figata 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 ok vedete devo io posso saltare sono superman figata figata assurda mi autostimo cos'è sta roba con il gatto qua? uh là c'è un cluster aspetta così vado a prenderlo c'è un casino di cluster qua sopra ehm voglio vedere cos'è quella roba inizia una partita coppa per vedere questa attività ah figo ok ok la c'è invece uno 001 001 penso sia tipo un sottospecie di missione qualche easter egg mi piacciono gli easter egg oh 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 cos'è sta roba avvia iniezione virus oh oh uccidi i nemici durante il caricamento del virus oh shit eh aspetta equipaggiare la super bestia no? ah ma mi aiutano quelli figata grazie eh ti sto coprendo io calma ho andata uno di due ci sono i 3 su 10 chi è che copisce? chi è che copisce? ma muori vieni qua vieni qua caffone aha mamma mia che bestia che sono proprio renegade a bestia headshot bitch headshot ho fatto headshot ah ora arrivano i zin no sono ancora fapponi oh l'ho mancati i don't care tira la cosa ah così mi piace rompiamo chi può essere rotto prendiamo la vita ah ma avete ammazzato il vostro amico che caffoni siete cattivi non ci sono più le amiche che mi aiutano no non ci sono più sono tutto da solo ora sono tutto da solo ora addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare che cazzo ho finito? oh nessuno mi ha detto vabbè sembrava che ho finito ci sono soldi per terra? oh si soldini 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 ha dei soldini? no c'è una vita lì prendi la vita ah nice ok ok e se io ti sparassi un colpo in oh che cacchio spari caffone non si toccano i singoli oh cacchio l'ha investito muori? ma ha investito la ragazza che caffone quella col camion l'avete visto? ma tu cosa stai facendo? prendi tempo eh? sei un caffone pure te ho una precisione di merda non coincide con il centro del mirino vabbè andiamo avanti con la storia va incarichi incarichi principali incarichi secondarie facciamo istruzione simulata esplora la torre ok raggiungi la cima della torre quale torre? 1300 metri ok però aspetta prima eeeh muori? ti ho colpito in testa dovresti morire? ah così è contento aspetta eeeh telefono no? si? indietro? telefono dammi la mia bestia pacemaker oh la mia bestiolina quasi quasi voglio modificare ancora un po' no no scherzavo eh magari gli do un altro più di tenuta di strada così eh non la vedo così riattiva come era una volta cioè un'oretta fa ok ok ah quella torre la bestia rossa sto vedendo la bestia rosa che cazzo è la bestia rosa? eeeh eeeh cos'è? oh non ti apprendere il muro quella che abbiamo visto prima no? sì ho una bella macchina ce la siamo abbiamo capito abbiamo capito manovra fai manovra ah mamma mia perchè c'è la carta igienica dappertutto quasi quasi me la vado a modificare la macchina no no zuda non puoi non puoi sei stai lavorando in questo momento più o meno c'è un'antenna qua che cazzo? what the fuck? ehi nessuno mi aveva detto di questa roba eeeh devo andare lì a quanto pare come ci arrivo? di sicuro non così ah devo saltare quindi ok ora calma sangue freddo girati di la carica il salto ok ora devo andare la giusto no 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 ahhh salta no 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 ok ok ora devo andare lì bella eeeh attiva il punto di materializzazione ok attiva la torre se cagli potrei spostare dalla base della torre del punto ah ok quel cazzo ci salgo io là sopra ok 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 sali 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 scherzavo come ah mi teletrasporto qui perfetto materializzati ok ora per salire allora noi ci mettiamo qui Vai sali Ora dov'è che devo andare? Allora mi serve un punto di materializzazione Tipo quello Posso? No non posso materializzarmi Però posso andare lì Carica Ok Ok classe dei dati 6 Ok ora posso salire? Sì sembrava di sì 7 8 Mi piace 9 10 Punto di materializzazione? Sì Ok ora Devo andare lì vero? Perché sì Devo arrivare lì in alto Aspetta Andiamo in corsa Vola con quanto fiato In gola Fingendo No 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 Non sta per cadere Ooooooooh Uaaaaah Shit Motherfucka Too good at this I'm too good at this I'm too good No 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 Oh mamma mia Ok 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 ora devo solo salire là sopra Tipo Vai 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 corri Sali 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 Ok devo andare lì mi sa Qual'è la torre? No quella Sali E quella che cazzo è? Ah è la supernavicella spaziale Vabbè Sali Salta No devo andare lì Vola Quella Ora Diciotto Diciannove Me ne dai un ventesimo Grazie Mamma mia quante me ne dai Uh materializzazione Materializzati C'è altro che le torri radio in Farcay 3 Aspetta Prendi potenza Vai Ok Bisogna fare un po' di casino Devo salire la sopra Ah si siamo vicini Bella Come ci arrivo qua sopra Vabbè io salto Bella Eh? Attiva la torre Mamma mia ma che cazzo è? La bestia Ho esplodato la torre Cavolo salta E beh cavolo si salta Vai Inizio della truffa Vabbè se io facessi un bel saltino Ehm 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 Non posso morire Ehm Negozi potenziamenti Non mi interessa Voglio farvi la truffa Ehm Mi dovrebbe prendere magari No Andiamoci così E' più bello Corrizzurial Maffaca 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 What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Ok ok Dobbiamo andare in linea d'aria tipo Passa il fiume Passa il fiume Posso che scambi in acqua? Raggiungi la riva Ehm Vabbè che saltoni che ti fa Salta Il gioco del cazzeggio Ma ma me lo immagino in coppia sta bestia Altri 1400 metri Vola, vola, vola Salta, salta Voglio un bel punto di avvistamento Belli in alto Oh Wow Bella roba Ma è un casino quella roba Ci metti secoli davvero Vabbè Mamma mia Io amo Lo amo già sto gioco Mille metri Capirai Niente di che Guarda come vanno via Via come il vento Guardali, guardali Ehm Ricopriamo un po' di sprint Potrei evocare una macchina Però non so quanto mi posso essere utile Cioè Posso fare una supercorsa Non so se ti rendi conto Ffff Massima potenza Mamma mia che figata Cioè guarda solo il movimento che fa quando è a massima potenza Cioè ammazza tutto e tutti Qui Ah poi mi piace Oddio guarda il tir Guarda il tir Vabbè dai lasciamolo stare poverino Minchia era lontana sto posto Vabbè a sto punto direi che rubiamo una macchina Posso sgonfiarti la ruota? Oh sì che posso Mi piace Ah Dovrei poter ricaricare mentre sono in Chi è cazzo che mi spara? Chi cazzo? Ah qua ci sono le altre cazzate No io devo fare la truffa Non mi interessa di quello che dici te Devo fare la truffa Dove è la truffa? È vicina? Mi sembra BDC Sì 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 è qua vicina Eccola lì Vai Corri Salta Posso saltare anche senza carica? Sì Bene Ok Ehm Adrenalina Getati contro auto edifici Ah questo c'era anche nel 2 Minchia Calma Uuuu Maui destro ma finisto Manichino Ah Della serie Angola Ok c'è qualche auto qui carina Sì io faccio tipo così Mi piace Eccolo eccolo così mi piace Ecco Oh il tira il tira il tira Il tira Aia mi hai fatto male caffona No diamo il tira Aia che male Vieni qua vieni qua Un combo Un combo Eccolo 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 Oh Solo due minuti qua Adrenalina Oh sì mi hai preso Oh sì prendimi di brutto Cosa cos'è 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 l'adrenalina Tipo Faccio più soldi Sembra bene sì Molta l'adrenalina Cosa fa Vieni qui Vieni qui vieni qui Ah non so se la raggiungo Manca un minuto Cos'è che devo fare Devo buttarmi contro Contro le cose Vai vai Buttati buttati Ah ho capito Però mi sa che Il più lo faccio con Ah sì Vai vai Clicca il destro sinistro Così faccio il combo tipo Oh che cazzo Questo è malato Guarda quanto cazzo va veloce Vai vai prendimi Prendimi Aia aia Vai 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 Una bella combo di quelle pesanti Manca un minuto E non ho ancora fatto ciò che devo Aia 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 Uh 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 Give me the money Wow Bello sto volo Uh vai 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 Che recupero tutti i soldi che mi mancavano Si 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 Vai 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 Manca poco Manca poco Blitz 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 Vai 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 Corri Corri mantieni 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 il momentum Mantieni Vai 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 Mantienilo mantienilo Si si vai Che cazzo sta facendo Vai 51 vai Vai continua Ah Ah beh ho fatto 230000 almeno Vai così, vai così, fammi venire da qualcuno e vestimi, oh che volo, che cazzo è, mamma mia, peggio dei manichini sul serio, mamma mia, epico, che figata, 256.000, ma me li dai ora i soldi, vero? Ah no, solo 2.000, giustamente, e il resto chi se li prende? Continua, vai, è mezzo morto, truffa, nelle simulazioni sono nessune distanze più impegnative dell'attività truffa, guarda la posizione sulla mappa, effettivamente questo è un mondo finto, quindi possiamo farci male quanto vogliamo senza, inizia truffa facile, no, 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 andiamo avanti con le missioni secondarie, truffa simulata, si, potenziamenti, nuovi potenziamento, combattimento, due mani, pistole, super forza, no, questa non mi interessa, aspetta, aspetta, indietro, ah, nuovi potenziamenti infatti, bonus, borseggio, spazzino, denaro per esperienza, convertito denaro, no, non voglio, poteri, nuovi potenziamenti, aria, aumenta l'aria, fatto, in effetti c'è un bel po' di roba perché le torri tirano un botto, andiamo tipo su, super sprint, sprint velocità, accetta, e ora per finire, facciamo anche uno al super salto, tipo, salto altezza, in questo modo saltiamo di più, salto planata, prendi quota e plana sulla città, fatto, non è abbastanza cluster dei dati, ah, te ce ne vogliono 15, allora facciamo questo, ok, quindi ora ti facciamo salti della madonna, beh, dire di sì, beh, vandalismo blindato, oh, carro armato, sì, 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 carro armato, cazzeggio, sì, sì, corri, 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 lo voglio, è mio, è mio, carro armato, vai, prendi, prendi il carro armato, prendi il carro armato, oh, sì, è mio carro armato, oh, I need to make money, I need to make money, malaffacca, perché devo alzare questi, cosa mi hanno fatto di brutto, alcuni bersagli, con calma, insomma, abbiamo due minuti, mamma mia, oh, dietro di me c'è qualcuno che vuole morire, io lo amo sto gioco, questo è pure un carro armato alieno della serie, ti levi, dovete morire tutti, ah, dietro di me c'è qualcuno, che vuole morire, c'è un elicottero, mi dicono, vai l'elicottero, non lo vedo, oh, aspetta, c'è qualcuno che vuole morire, oh, guarda, c'è gente speciale che mi dà soldi, muori, oh, là dentro ci sono gli zin, è vero, ammazzati gli zin, ah, è vero, non posso da qua dentro, oh sì, l'ho ammazzati tutti, oh, mamma mia, vai, aspetta, fai manovra, fai manovra, buono, ammazza, oh, ammazza questo, non deve sopravvivere, mamma mia, che bestia, la bestia di, mamma mia, che bestia, un milione, no, non c'era scritto un milione all'inizio, figata, assurda, mamma mia, può anche morare sta bestia, ah, no, ah, se li va via loro, se li facevi un milione, ah, ho capito, 3500, continua, non ci arrivo al 6, che cazzo, continua, vai, veicolo, oh, sì, ora è abbinato l'olante allievo, in disposizione del garage del tuo varco, in disposizione delle istanze per impianti, ah, sì, sì, ok, quindi ora posso, posso evocarlo, praticamente, cioè, io posso fare, telefono, consegna a veicoli, destructor, e posso volare, non è volante, non vola sul serio, chi è che mi spara, ah, ma se io cambio direzione, ah, ok, quindi, non ha un verso iniziale, diciamo, si muove nella direzione in cui punto il mouse, interessante, muori, chi è che spara, c'è qualcuno che spara da lì, no, è successo, chi è che mi sta sparando, non vedo nessuno io, vabbè, noi andiamo avanti, oh, lì c'è qualcuno, aha, qui c'è un puliziotto, qui qualcuno che vuole morire, qua idem, vediamo, qua siamo un po' di gente, che bello, fare la passeggiata prima mattina, per ripulirsi un po' il sistema, non la sai, bere un po', bere, respirare un po' di aria fresca, far esplodere i camion che, viaggiano tranquilli, e portano, le cacciotte ai supermercati, che bello, che bello, mamma mia, passatempo della mia vita, guarda, oh, che figata, oh, esplodi, ti spiace esplodere, grazie, guarda lì, una moto, esplosa, non c'è più, anche qui, guarda questo che bello, guarda questo che bello, guarda questo che bello, guarda questo che bello, devo ammazzare, i soldati qua, per prendere le stelline, le famose stelline di GTA, ahah, muori, giriamo attorno a sta cosa, ah, ma mi spavano da là sopra, quindi, posso far esplodere qualcosa, sempre bello far esplodere anche le cose, no, no, c'è qualcuno che mi spara da un elicottero, me lo sento io, vabbè, come ho detto, battista merda, vai, vai, la c'è un cluster, posso prenderlo anche, mi sa che se esco da qui, però è un po' un casino, ah, ecco chi è che mi stava sparando, boom, oh, non posso zoomare purtroppo, ma, chi è che mi spara, sti caffoni, morite tutti, qualcuno che vuole morire? la mia mira, la mia mira assurda, colpisci là sopra, no, meglio, colpisci meglio, boom, no, un po' più sotto, boom, oh sì, morte istantanea, che bella cosa, tu cosa sei? qualcuno che vuole morire, immagino, aspetta, ben dietro, ok, gira a sinistra, ci passi qua in mezzo, ah sì, dai, ah, sì, figata, oh my good, yes, è morto? sì, è morto, dietro di me c'è qualcuno, mi dicono, mamma mia, io non amo sto gioco, e sì che siamo solo alla seconda ora di gioco, easy, ah, ah, oh my god, quanto mi sto aggasando, you're gonna explode, bitch, you too, ah, l'ho mancato, ah, sto perdendo carica, beh, allora scendiamo una sta roba, messiamo un po' di gente così, alla vecchia maniera, oh, questi sono, oh, che figata, ok, sono morti, mettiamo anche questo e scappiamo magari, ok, ora scappiamo, voglio far perdere le tracce di me, qual è il miglior modo se non correre come un pazzo, guarda qua che figata, c'è gente che mi insegue, con tanta velocità, you have to be kidding me, guarda, guarda, oh, merda, che cazzo, oh, oh, che cazzo è, qua mi servirebbe il cazzo di robo, no, non, non, non per forza, ora ti mando, guarda, guarda come ti ammazzo, guarda, guarda caffone come ti ammazzo, vai, muori, 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 io non mi preoccupo neanche della vita, perché basta passare sopra, oh, che cacchio è una moto volante, ah, bitch, oh sì, flash point è 2 di 32, 32? porca masca, chiacchiacchiacchiacchi è spara? ah, ciao, scusa, ma se l'ho liberato sto coso, perché ci siete ancora voi? l'ho liberato, l'avete detto anche voi? ah, siete qui solo per rompere, ah no, è con tipo 6 stelline, di polizia, tipo, è quello? può essere quello? eh, eh, potrebbe essere quello? quindi tipo, ti arrabbi se io ti ammazzo? eh, mi sa di sì, vai, corri via, dobbiamo liberarci della pula, sia, uè, boy, stiamo un po' qua, così perdiamo, cosa? oh, cacchio, chi è? chi è? chi è? chi è? oh, ciao amici miei, che figata assurda, altro che elicotteri, prendi vita, ok, ma direi che per questo episodio, posso essere tutto, io vi dico che, se dovete iscrivervi, se dovete ancora iscrivervi, vi consiglio di farlo, così, non vi perderete i prossimi episodi, di qualunque serie, io stia facendo, che cacchio sta succedendo, è una bestia, ah no, l'ho mancato, me l'ho mancato, tieni, no, ti manco sempre, che cacchio, aspetta, ricarica un attimo, pronta? ah, ah, finalmente esplosa, esplode anche te, uh, c'è altra gente che vuole esplodere, bene, io non voglio, non voglio raggiungere la leva, che ci scherzi, io sto qua bello bello, mi nascondo, tipo, non posso, non posso andare in basso, eccolo qua, piano piano sta scendendo, nessuno mi caga più, cioè, voglio dire, là c'è un paio di persone, ma non sanno più come raggiungermi, ah, ok, ok, interessante, comunque, per questo episodio è davvero tutto, vi ricordo di iscrivervi, se ancora dove, dovevate farlo, lasciare un mi piace, se avete gradito l'episodio, e, sì, per questo episodio è tutto, io vi saluto, oh cazzo, ciao, tru tru tutti,